Forse per chi ci ascolta da casa, vengo subito da lei Bettini, mi voglio chiedere a Ferruccio De Bortoli se è d'accordo sul fatto che non si sta cercando un nome, se ne stanno cercando almeno dieci, cioè in queste ultimissime ore si sta cercando primo il nome del prossimo Presidente del Consiglio, secondo la composizione del suo governo, cioè i principali ministri e terzo il Presidente della Repubblica. Direi anche in quest'ordine, quindi i nomi da cercare e da far convivere sono otto come minimo, forse dieci, Ferruccio De Bortoli. E sono troppi insomma da questo punto di vista che segnano poi l'assoluta incertezza nella quale stiamo vivendo. A me colpisce, e qui mi collego con quello che dicevate prima con il Professore Muzzi, che questo stato d'emergenza che il Paese sta vivendo non soltanto per la pandemia, sembra non modificare minimamente insomma il dibattito politico sulle due grandi questioni che riguardano il Curinale e il Governo, se proseguirà questo, se ce ne sarà un altro. Anche perché non possiamo assolutamente permetterci uno stallo, cioè tante votazioni che vadano avanti per troppi giorni, che tra l'altro finirebbero per indebolire l'immagine del Paese, per dare un senso di abbandono anche rispetto a quelle che sono le emergenze che stiamo vivendo. Io sono sempre convinto che la soluzione migliore sia quella di lasciare tutto com'è e quindi di rimettere a posto quegli scatoloni che vedevamo allestire al Curinale. Sarebbe forse la scelta più saggia e forse dopo quello che è accaduto oggi tutto sommato l'ipotesi di un bis di Mattarella non è poi...